Il Presidente Provinciale è una fondamentale carica statutaria dello SNAP. Il ruolo sul territorio del Presidente Provinciale è e rimane fondamentale e per quanto mi riguarda è uno dei ruoli dai quali dipende tutto il funzionamento, l'efficacia e l'efficienza dello Sindacato Nazionale Agenti. Vi chiedo, purtroppo sono costretto a chiedere anche a te, uno sforzo importante ulteriore perché la situazione ci impone decisioni importanti da assumere in tempi brevissimi, decisioni dalle quali può cambiare il futuro anche pensionistico di tutti i colleghi che svolgono la nostra professione. Sono decisioni talmente grandi che necessita assumerle in forma responsabile e con il massimo della condivisione, per cui abbiamo ritenuto fondamentale indire un congresso che si esprima in maniera forte e determinata, chiara, possibilmente con la massima condivisione, su alcune tematiche che sono arrivate ormai al momento decisivo o decisionale. Una di queste naturalmente è il fondo pensione agenti, la posizione dell'ANIA purtroppo non ci soddisfa, l'offerta economica dell'ANIA che fa fronte all'offerta importante, sofferta degli agenti di rinunciare ad una parte delle promesse pensionistiche pur di contribuire al risanamento del fondo pensione agenti, al mettere in atto il necessario piano di riequilibrio, l'offerta dell'ANIA che ci è stata informalmente avanzata non ci soddisfa e risulta ampiamente insufficiente per garantire la prosecuzione e la sopravvivenza del fondo pensione agenti. Per cui siamo di fronte ad una decisione storica, cioè quella o di accettare come altri sembrano intenzionati a fare la piccola offerta di contributo delle imprese e quindi determinare un ridimensionamento troppo importante delle promesse pensionistiche di tutta la categoria e una decurtazione troppo rilevante del trattamento pensionistico in corso ai nostri colleghi pensionati, oppure alzare il livello del confronto, mettere sul tavolo tutta la nostra forza negoziale e rivendicativa e giocarci la sopravvivenza del fondo con il rischio di andare verso il commissariamento e quindi rischiando la stessa sopravvivenza del fondo, ma questo ci permetterebbe di non rinunciare in maniera così drastica agli impegni, alle prestazioni economiche che il fondo si è impegnato a sostenere a vantaggio della categoria. Questa è una delle grandi scelte, l'altra riguarda il contratto nazionale di lavoro, anche lì siamo ad una svolta, va assunta una decisione che può essere storica, dalla quale dipende anche la sopravvivenza o meno dell'ente bilaterale, l'EMBAS, della cassa malattia, perché esistono altre opportunità che ci darebbero il pacchetto completo, compresa la cassa malattia, cioè compreso il contributo economico a sostegno degli agenti a fronte di malattia di assenza del personale dipendente, che ci permetterebbero particolari elasticità che i sindacati dei dipendenti al momento non sono disponibili a concedere per il rinnovo del nostro CNL e quindi ci sono altre strade che però sono così impegnative e, se vogliamo, innovative da dover essere condivise dal massimo organo di rappresentanza della categoria, cioè dal congresso nazionale SNAP, del quale fai parte nella tua veste di presidente provinciale insieme ai tuoi delegati. Beh, a questo aggiungiamo un rilancio su tutta la linea politica, sai bene i risultati storici che abbiamo ottenuto, non ultimo l'antitrust, il più recente, che da solo ha cambiato per sempre il rapporto di forza tra ciascun singolo agente e la rispettiva impresa rappresentata, gli ha cambiati per sempre questi rapporti di forza ridandoci parte di quei diritti fondamentali che avevamo e che nei decenni per via negoziale a livello di contrattazione aziendale abbiamo purtroppo lasciato sul terreno. Ce li siamo ripresi con un atto forte che purtroppo qualche presidente di gruppo, qualcuno dei quali magari ha anche costituito altre associazioni che non condividono questa linea politica, ci ha duramente criticato in maniera forse inspiegabile a tal punto da tentare di indurci a sollevare il piede dall'acceleratore su quel fronte, invece abbiamo tenuto il piede ben fermo sull'acceleratore, i risultati sono arrivati e oggi tutti gli agenti di assicurazione hanno il diritto di mantenere i locali agenziali, di costituire una propria banca dati della clientela, di mantenere le utenze agenziali anche in caso di cessazione del rapporto con la compagnia rappresentata, hanno il diritto di utilizzare sistemi informatici anche al fine di operare per altre imprese, insomma hanno in un unico provvedimento ripreso tutto ciò che nei decenni c'era stato tolto. Questo non ha fatto precipitare la qualità delle relazioni con l'ANIA, non ha messo in discussione gli accordi integrativi che anzi alcuni gruppi agenti proprio in questi giorni stanno rinnovando con le imprese, non ha tolto nulla agli agenti intenzionati a rimanere monomandatari ma ha dato loro maggiore dignità professionale come l'ha riconosciuta a tutti gli agenti, mono o plurimandatari che siano, maggiore capacità di contrattazione, maggiore autonomia indipendenza organizzativa e gerarchica dalle imprese, cioè ciò che lo SNAP insegue e inseguiva da molti anni. Bene, in questa situazione noi siamo pronti a rilanciare con una nuova proposta di programma di lavoro per gli anni a venire, sempre lungo questo solco ormai tracciato che pensiamo di riuscire a consolidare, a preservare, a difendere da tutti gli attacchi che fin dal giorno successivo all'approvazione di certi provvedimenti ci sono arrivati, sempre più insistenti e con rinnovato convicimento da parte di chi evidentemente ha interesse non ad ampliare le capacità professionali degli agenti ad avvalorare la centralità della figura dell'agente, ma a ridimensionarle e a relegare l'agente al ruolo di uno dei tanti canali distributivi dell'impresa, non è questo il nostro progetto, voi lo conoscete il nostro progetto, noi rilanciamo e vi proponiamo di rinnovarlo consolidando e difendendo tutto ciò che abbiamo ottenuto. Bene, queste scelte importanti di cui parlavo prima, facciamole insieme in maniera responsabile, se avete bisogno nella convocazione delle assemblee provinciali per le quali vi chiedo l'enorme sforzo di rispettare i termini statutari e di accelerare tutte le operazioni finalizzate a convocare l'assemblea, ottenere i delegati al congresso e assumere decisioni da poi poter rappresentare in quella sede, se avrete bisogno di supporto anche logistico, ma anche politico sindacale, chiamate lo SNA, chiamate uno dei componenti della mia squadra di esecutivo, siamo tutti ben disposti a fornirvi ogni supporto, anche al fine di permettere a tutti i colleghi che parteciperanno alle vostre assemblee di essere a conoscenza perfettamente della reale situazione, di come sta evolvendo e di quali siano le decisioni necessarie per fare in modo di non pregiudicare gli interessi dei colleghi, di tutti gli agenti ed anzi di ottenere ciò che ci è dovuto, il risanamento del fondo pensione agenti nella maniera più indolore per gli agenti, le compagnie hanno la possibilità di farlo, hanno le risorse necessarie, devono solo averne la volontà politica e noi questa dobbiamo ottenere, contratto nazionale di lavoro che se rinnovato, come altri stanno immaginando di fare, alle condizioni pretese dai sindacati e dai dipendenti potrebbe diventare un evento mortale per centinaia di colleghi che non sono attualmente in grado di sostenere lo sforzo economico richiesto da quel rinnovo, insomma queste decisioni ed altre le assumeremo nel prossimo congresso nazionale che sarà convocato tra qualche giorno per fine luglio. Vi chiedo questo sforzo, mi scuso se nel periodo estivo non vi regalo un po' più di serenità e di tranquillità, del resto la situazione è tale da richiedere lo sforzo di tutta la categoria e in questi momenti la nostra categoria ha sempre dimostrato di essere all'altezza, di avere la necessaria unità e compattezza, la necessaria forza e determinazione che in SNA non sono mai mancate. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo presto.